In questo caso siamo di fronte ad una tovaglia circolare di cui abbiamo noto il diametro AB che misura 180 cm. Il problema ci chiede di calcolare il costo del pizzo che serve per orlare tutta la tovaglia e ci dà come dato il prezzo al metro del pizzo. Per risolvere il problema dovremmo trovare la circonferenza della tovaglia e in questo modo troveremo la quantità di pizzo che ci serve e potremo calcolare il prezzo. Ora per calcolare la circonferenza sappiamo che la formula da applicare è 2πr. Noi conosciamo il diametro che è 2r quindi ci basta moltiplicare 2r per pi greco. Quindi calcoliamo 180 cm per 3,14 cm. Aiutiamoci con la calcolatrice. Allora 180 per 3,14 cm. E otteniamo 565,2 cm. Ora ho la misura della mia circonferenza, trasformo in metri, quindi 565,2 cm. E ora posso moltiplicare la misura della circonferenza per il prezzo al metro. Quindi il prezzo totale sarà uguale al prezzo al metro, 7,5 euro, per 5,652 metri. Quindi 7,5 per 5,625 e ottengo circa 43 euro. Grazie a tutti.